Si intitola 21 sfumature di Brown ed è un video che la bellissima Emma Marrone, la famosa cantante di Origini Salentine, ha pubblicato nel suo profilo di Facebook. E questo video sta letteralmente facendo impazzire moltissimi dei suoi ammiratori. Il video è stato girato prima della data padovana della Delsot Tour, la bella cantante si trova impegnata. Il video ovviamente ha raccolto un quantitativo elevato di visualizzazione di mi piace nei suoi social, tanti commenti da parte dei tanti fan maschi che si sono scatenati in apprezzamenti e scenari o meglio segnali di squilibrio a livello ormonale. citando propriamente la sensualità di Emma che nella clip canta il brano Crazy in Love di Beyoncé, un brano che fa parte della corona del film 50 sfumature di video di E.L. James. Beh, dunque un video che rimarrà nella storia, sexy, intrigante ma non volgare, non o se, ma sicuramente bello, piacevole, intrigante. Brava cara Emma, nel caso tu mi stessi vedendo ti faccio i miei complimenti, iscrivetevi se volete, commentate e questo video non vuole assolutamente lei della privacy di Emma Marrone né della famiglia.